Un incontro, no? Lavoro, ma molto differente, perché... Però qua vedo orologi. Vedo pezzi di ferro, ma poi li vedo proprio bene qua. Questa è la tua, eh? La tua, proprio la tua vera? Sì. Questo, come va andata pubblicata? Su... Ah, vabbè. E che mezzo è? Me lo racconti, mi impazzisco questo mezzo, io potrei sbroccare. Questa è una scivolone del 1932. Anche lei? No. Lei non è del 1932, ma più giovane. Ma dove siamo qua? Anche orologi, bello quello spade rosse, bello il freccione, anche bello il Chieta Senkau. E però, ah, quindi qua facciamo moto aerografate, no? Facciamo automobili, vendiamo automobili, no? Vendiamo orologi, no? Fiamo tatuacce. E bene, sì. Non si direbbe. Non si direbbe niente. Cos'è? Strano. Non si nota, no? E però qua alla disco, lo stiamo, no? It's cold, timeless. Timeless? Timeless tattoo? E perché gli fai pubblicità? E perché sta snazzicando? Perché lo sta battezzando. Fatturato porta fatturato, fatturato porta comunicazione. E poi ci piacciono le macchine. Ci piacciono le belle macchine. Quelle proprio belle, quelle bionde. Ci piacciono i tatuaggi, a me piacciono molto. Ci piacciono anche i rologi. Ci piacciono. Abbiamo un sacco di passione in comune. L'unico problema che ci ha in comune è Manuel. Che spai? Comunque questa è stupenda. Questa è stupenda. È bellissima. È bella come una Madonna. L'unico problema che ci ha in comune è lui. Manuel. Salve. Salve è bello. Però lui mi ha fatto conoscere loro. Compagno in inchiostra. Compagno in inchiostra. Il secondo testo in mare. Fatturane, giocane, divertine, mangiane, scroccane il pranzo e passione in comune. Dicevi viva la vita. Viva la vita. Là dentro è come se fosse una sala operatoria un pochettino. È una sala operatoria. Fatto o non fatto? Sbrattate un pochettino, ho sbragato. Bellissimi. Bravissimi. Fattelo. Viva la vita. Da lavorare. Viva la vita. Complimenti. Alla risposta hanno questo tutto. Vattezzato, assicurato e quindi non è reale. Il secondo testo in mare. Siete una struttura della Madonna. Siete una struttura della Madonna.